La Ormina Jazz Festival, che ha luogo in questa splendida cornice che è la Villa Comunale, veramente bella, bellissima. Io sono Valentina Martino Ghiglia e ho l'onore e l'onere anche di presentare questa kermesse che durerà cinque giorni e si svolgerà lungo questa settimana. Oggi, 19 luglio, cade il diciottesimo anniversario della morte di Paolo Borsellino e della sua scorta. Vorrei condividere con voi questo momento di portoglio, leggendo il messaggio che il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, ha inviato alla signora Borsellino.